L'ufficio Diocesano Migrantes di Taranto ha organizzato l'undicesima edizione della Festa dei Popoli. Mai come in questo momento, quando Taranto ha accolto e si accinge ad accogliere migliaia di migranti, la festa, che si svolgerà nelle prossime ore, assume un significato particolare. L'intera diocesi del capoluogo è mobilitata con quelle comunità dell'est europeo già presenti per accogliere i nuovi ospiti provenienti dal continente africano. È un'esperienza diretta con l'immigrazione perché Taranto è stata e sarà nei programmi del Governo nazionale dell'Europa un centro di prima accoglienza e di smistamento di profughi e migranti. Per questo oggi più che mai la diocesi ionica è impegnata a divulgare con esempi concreti la politica dell'accoglienza, ha detto Monsignor Greco, vicario dell'Arcidiocesi, fugando dubbi e paure ma sempre nel rispetto della legalità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.